Grazie a tutti 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 Abbiamo collatato qualcosa Io era la mia apparizione Da mediano Giocare davanti non è facile Però è andata bene Quindi da quanto ho capito Vogliamo confermare quello fatto Nell'invernale E speriamo di continuare così E speriamo di continuare così Grazie a tutti 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 Gianni Fa di cosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nonostante sia la prima partita abbiamo finito 15 giorni fa l'invernale, buone squadre all'inizio già viste, daremo il massimo anche quest'anno. Nonostante sia la prima partita. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.